Sono 44 le condanne per drangheta e narcotraffico risultanti dall'inchiesta a Golgota. La Corte d'Appello di Catanzaro, al termine del processo di secondo grado nato dall'inchiesta, ha emesso 31 condanne definitive, ridotto la pena per 13 imputati e assolto solamente due persone. L'operazione era nata il 10 febbraio 2021, con 36 arresti eseguiti dalla polizia di Crotone. L'obiettivo era quello di smantellare le nuove generazioni della Coscarena e Nicoscia, di Isola di Caporizzuto e guidata da Salvatore Arena, detto il Caporale, ed è la cosca Mannolo di San Leonardo di Cutro, entrambe coinvolte in attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte d'Appello ha confermato la pena di 20 anni di reclusione per Santo Claudio Papaleo, Antonio Nicoscia, Antonio Sestito e Giuliano Mannolo. Le indagini avevano evidenziato un cambiamento di assetto all'interno delle due cosche, a seguito delle operazioni Johnny del 2017 e Tisifone del 2018, che avevano portato alla carcerazione dei membri apicali delle due cosche.